Cosimo Altomare è nella vita docente universitario di chimica farmaceutica e poi nella sua stessa vita l'incontro con Don Tonino lo ha portato all'esperienza politica, ad essere amministratore nella sua città, consigliere comunale a Morfetta ed era un vento che Don Tonino aveva suscitato, cioè la politica come servizio alla comunità. La politica come servizio alla comunità, la politica come servizio alla pace. Questa idea che dall'esperienza con Don Tonino noi abbiamo assunto è quello di aver già sperimentato nella Chiesa questa specie di fastidio verso la mediocrità e la superficialità. Don Tonino ci insegnava a raggiungere obiettivi alti attraverso strumenti importanti, quello dell'approfondimento, dello studio, dell'analisi, delle cosiddette strutture di peccato attraverso gli osservatori, gli approfondimenti. Ci ha portati anche a comprendere meglio l'idea di una politica che non sia soltanto slogan, politica come servizio, ma davvero che sia realmente servizio alla gente, servizio agli ultimi soprattutto. Comprendere il contesto, comprendere i problemi, comprendere le questioni, la carità, l'amore che diventava uno strumento di analisi della realtà, non semplicemente portare un pasto caldo, portare una soluzione, il pacco al povero. Ecco, ed è esattamente quello che lui nel commento ormai molto famoso della parabola del samaritano, del buon samaritano, ha sempre indicato come il samaritano dell'ora prima, dell'ora giusta e dell'ora dopo. Dicendo anche, insegnando anche una cosa importante, probabilmente ci siamo esercitati anche come uomini e come donne di chiesa ad essere i samaritani dell'ora giusta, qualche volta a fare bene i samaritani dell'ora dopo, siamo in ritardo nell'essere i samaritani dell'ora prima, cioè coloro i quali sanno prevenire le situazioni attraverso un'analisi, un approfondimento. Ecco, in Don Tonino c'era una specie di approccio, possiamo dire, di tipo quasi gramsciano, nel senso dell'analisi delle strutture di peccato, per utilizzare un linguaggio catechetico, che già fa metà del lavoro, cioè ci aiuta a comprendere le cause appunto della povertà, le cause delle difficoltà proprio ad affrontare le cose della vita. E in questo senso, in questo senso diciamo la politica è davvero un servizio, è uno strumento della pace in senso lato, cioè di una comunità che cerca al suo interno le armonie e che non fa parti uguali tra diseguali, questo per citare Don Milani, o ancora per esagerare, perché questo l'abbiamo vissuto anche direttamente, quello che Don Milani insegnava come la politica deve essere l'antidoto alla avarizia o il contrario dell'avarizia. Comprendere un problema lo facciamo tutto insieme è un fatto, diciamo risolverlo da sole è un atto di avarizia, risolverlo insieme e per tutti invece è la politica. Bellissimo questo concetto, ecco in Don Tonino l'abbiamo proprio sperimentato direttamente anche attraverso le opere che nella diocesi, che nella diocesi, nella chiesa in generale ma anche nella società, egli diciamo ha promosso e ha lasciato come eredità importante. La stola e il grembiule erano il dritto e il rovescio dello stesso abito, l'amore per Dio, l'amore per l'uomo in maniera piena, assoluta. Questa è stata una testimonianza di vita notevole che ha lasciato Don Tonino, cioè non separare mai la sacristia dal marciapiede. La parola dall'azione, la parola dall'azione possiamo dire una cosa che in Don Tonino probabilmente l'azione arrivava anche prima e la parola, che era una parola generativa, la spiegava molto bene, anche con un fatto emotivo di coinvolgimento perché questa era una capacità un po' straordinaria che lui aveva di parlare e in quel momento le sue parole sembravano rivolte a te nel contesto in cui stavi vivendo appunto una certa situazione. Ecco, questo è il senso un po' della parola generativa, della parola che generazione, della parola che spiega anche l'azione e la testimonianza che veniva molto spesso prima delle sue parole. Diceva che è un delitto lasciare la politica agli avventurieri. Manca in questo nostro tempo una spinta ad una vocazione, come si dice, adulta dei laici nella società, nella chiesa, nella politica. Manca una spinta anche perché molte cose sono cambiate. Da questo punto di vista, io ritengo che la parola di 30-35 anni fa di Don Tonino ha ancora una riserva di attualità grandissima. ritroviamo nei suoi testi anche, come dire, una sottolineatura dei pericoli del populismo, quello che sollecita soltanto la pancia, come dire, delle persone o del paese, se vogliamo, ma non affronta i problemi alla radice. Ecco, in un tempo in cui già si sperimentavano le prime scuole anche di servizio alla politica, Don Tonino è stato un innovatore anche in questo senso, perché a questo educava la sua comunità e a questo ci spingeva. Non tutto era risolto. Don Tonino aveva anche molte contestazioni all'interno della sua stessa comunità, però metteva molta gente nelle condizioni di sperimentare cose nuove e da questo punto di vista la sua, usiamo questo termine, lotta al presappochismo, alla superficialità, eccetera, è un messaggio che ancora oggi rimane di grandissima attualità. Un'ultima domanda. Potremmo dire che Don Tonino direbbe oggi, prima di proporre risposte, abitate le domande? Assolutamente sì e ponetevi le domande giuste. E per porsi le domande giuste bisogna vivere il problema all'interno. Ecco, lui un po' traslando dalla teologia della liberazione dei principi, se vogliamo, dei concetti importanti, cioè a mettersi addosso l'occhio del povero. Se io non guardo le cose con l'occhio del bambino, con l'occhio del povero, con l'occhio dell'umile, non riuscirò mai a capire i problemi davvero degli ultimi. E in questo senso, porsi le domande giuste, vivendo dentro con l'occhio del povero addosso. Grazie. Grazie.